Coach, vittoria di larga misura, forse inaspettata all'inizio, forse non ci sono 20 punti tra le due squadre, ma stasera a San Marcellino la gara ha detto che la Fiorentina Basket ha dominato Milano dall'inizio alla fine. Sì, sicuramente inaspettata questa prestazione eccezionale dei ragazzi con una squadra di questo livello, come inaspettato quello che stanno facendo e stanno facendo questi giocatori in questa stagione, sotto tutti gli aspetti veramente al di sopra delle previsioni. Oggi siamo stati più bravi di Milano, questo non vuol dire che lo saremo in futuro, lo saremo se si incontra nel playoff o lo siamo sulla carta, perché si sa proprio che sulla carta è una squadra loro che hanno veramente qualcosa più di noi. Per oggi abbiamo fatto una grande partita, abbiamo fatto una partita di fisicità, di atletismo, di difesa veramente molto importante e credo che sia una bella soddisfazione e soprattutto sia il segnale che con il lavoro quotidiano, con l'applicazione, con la voglia di migliorarsi ci si può togliere tante soddisfazioni. E questi ragazzi, come ho sempre detto anche altre volte, la cosa bella di questi ragazzi è che hanno voglia di allenarsi e si fanno allenare. Ne ho visto tanta intensità difensiva, tanta concentrazione e tanta condivisione delle responsabilità, non solo in attacco, con un'ottima circolazione di palla, ma soprattutto in difesa, quello che immagino tu voglia vedere. Avete battuto Milano forse proprio sul loro terreno, Milano è una delle migliori difese del campionato. Sì, su questo stiamo increscendo, sappiamo che per come è costituita la nostra squadra abbiamo preso qualche rischio sulle caratteristiche difensive di qualche giocatore, che però, come dico sempre, non sono definitive, ma si possa migliorare. Infatti stiamo migliorando, ci lavoriamo una settimana, stiamo crescendo in difesa. Quindi, bellissima partita, condivisione delle responsabilità sia in attacco che in difesa. Colgo l'occasione, al di là dei soliti protagonisti, voglio veramente fare complimenti a tre giocatori che sono stati, secondo me, l'emblema della partita di oggi. Bruno, Jacopo e Peppe De Leone, perché magari hanno giocato con falli, magari non sono stati appariscenti, ma hanno giocato con una cattiveria, una fisicità e con un'energia veramente incombiale. Quindi, complimenti a loro, complimenti al pubblico che era presente qua, che non era facile venire stasera alle nove con la concomitata di Coppa Italia. C'è un pizzico di amarezza, perché questi ragazzi, quello che fanno, quello che stanno dimostrando, forse sarebbero meritati una cornice un po' più numerosa di pubblico, tipo quello di Omenia. Ma, nonostante gli sforzi, non siamo riusciti a convogliare tutti gli appassionati che erano nella Coppa Italia, al Mandela, non siamo riusciti a convogliarli sul San Marcellino. Però, come ho detto ragazzi, noi non ci importava chi c'era, chi non c'era, per noi la partita era fondamentale, è stata una vittoria per noi. La sinergia col pubblico c'è, Firenze si sta accorgendo che esiste una Fiorentina Basket che sta vincendo e sta convincendo, quindi sicuramente ci sono tutte le premesse per vedere un pubblico maggiore, quantitativamente parlando, anche se qualitativamente stasera si è fatto sentire e vi ha dato una grande spinta. Sì, come ripeto, quelli che ci sono sono incomiabili, stavano avendo sempre più trasporto, sempre più coinvolgimento. La brigata, i ragazzi delle poche presenze, tutti quelli che sono venuti, veramente ci hanno dato una bella spinta. Questo è uno zoccolo duro che sta lentamente crescendo, ma credo che per quello che stiamo facendo e per quello che esprimono i ragazzi dobbiamo riuscire a portare qua più gente, più appassionati, più tifosi o perlomeno più curiosi. Grazie.